E' il ponte 4, stavolta, a restituire i corpi. La Concordia ritorna, una necropoli sommersa, prima ancora che un colosso che minaccia l'ambiente incontaminato del giglio. Solo ieri il rapporto del commissario delegato per l'emergenza del naufragio della Concordia dichiarava ufficialmente chiusa la fase di ricerca e di soccorso e inaugurava la seconda, delicata fase, della rimozione del carburante a poppa. Approfittando delle favorevoli condizioni meteo, la protezione civile ha ultimato rapidamente l'allestimento di un cantiere per le attività di ricerca all'altezza del ponte 4, il punto più delicato per questo genere di operazioni a causa dell'inclinazione della nave, che l'ha trasformato in un pozzo profondo. Da qui, nella tarda mattinata, sono riemersi cadavere di quattro passeggeri della crociera, tra cui una bambina di 5 anni, Diana Arlotti, di Rimini. Il suo papà, William, figura ancora tra gli undici dispersi. Le operazioni sono cominciate a seguito delle indicazioni di altri passeggeri superstiti, che avevano visto per l'ultima volta alcuni dei dispersi proprio in prossimità del ponte 4.